Leggiamo adesso e commentiamo il quarto trattato del Corpus Hermeticum, che ha per titolo Il Cratere o la Monade, ed è un dialogo che avviene tra Tat e lo stesso Hermetetris Megisto. Leggiamolo. Poiché il Demiurgo creò l'intero cosmo non con le mani, ma con il Logos, concepiscilo dunque come presente e sempre esistente, creatore di tutto e uno solo, che ha plasmato gli esseri per la sua volontà. Questo infatti è il suo corpo, che non si può toccare né vedere né misurare, che è privo di dimensioni e che non somiglia a nessun altro corpo. Infatti non è né fuoco, né acqua, né aria, né soffio, ma tutte le cose che da esso derivano. Essendo buono in effetti, il Creatore non ha voluto dedicare questa offerta soltanto a se stesso, né adornare la Terra solamente per sé, bensì ha inviato qua giù l'uomo quale ornamento del corpo divino, un vivente mortale, come ornamento di un vivente immortale, e il cosmo supera i viventi in quanto è sempre vivente. Ma l'uomo supera anche il cosmo per la ragione e per l'intelletto, cioè per il logos e il nus. L'uomo, infatti, divenne spettatore dell'opera di Dio, si meravigliò e prese a conoscere il Creatore. Dio dunque, o Tatt, distribuì a tutti gli uomini la ragione, ma non l'intelletto. E non per fare dispetto ad alcuni. Il dispetto, infatti, non proviene di lassù, ma si forma qua giù, nelle anime di coloro che non possiedono l'intelletto. Ma perché, o Padre, Dio non distribuì a tutti l'intelletto? Perché volle porlo per le anime come premio, figlio mio. Ecco che cosa ha detto. questo messaggero. E vediamo però che cosa significano tutte queste prime frasi che abbiamo letto, questa prima parte del brano, del trattato. Innanzitutto bisogna comprendere come già viene enunciato il tema centrale, che è il dono dell'intelletto che Dio fa all'uomo e poi la risalita che l'uomo deve fare per poter contemplare lo stesso Dio. E quindi si vede questo elemento centrale. E cogliamo già anche perché si intitoli il cratere, elemento che viene citato proprio in quest'ultimo passo. ci viene detto innanzitutto che la natura dell'azione divina nella creazione fa conoscere Dio come incorporeo e uno solo. Quindi il demiurgo, colui che ha creato l'universo attraverso il logos, non è nient'altro che Dio. E' un altro modo per definire Dio. In certe mitologie, in certe rappresentazioni, il demiurgo è differente. Qui, in questo Tractatus IV, abbiamo una identità in qualche modo. Il demiurgo, cioè il creatore, cioè si sta attribuendo la funzione di creatore a Dio attraverso il nome di demiurgos, o demiurgos, ed è uno solo, quindi enos, monos appunto, uno e solo, indivisibile, e ha plasmato tutti gli esseri. Questo è il primo punto. Ecco, Dio ha anche altre caratteristiche, ci viene detto. Dio è buono e per bontà ha creato proprio l'uomo. Questa bontà innata del divino, del Dio, ha fatto sì che questi creasse l'umanità. E il fine della creazione dell'uomo era la contemplazione del suo creato. Quindi l'uomo ha il compito, e quindi tutti noi, abbiamo in questo senso il compito cosmico di ammirare la creazione, e si badi, non di sostituire alla creazione divina una creazione fittizia, in qualche modo, ma di ammirare ciò che Dio stesso ha creato. Certo, Dio ci ha dato anche l'arte, la tecnica, ma non per ammirare esclusivamente i prodotti della tecnica. Il fatto che Dio abbia dato l'uomo l'arte lo si vede proprio qui anche nel Corpus Hermeticum. Però appunto il fine primario è quello della contemplazione del creato divino, di ciò che Dio ha manifestato, di ciò che Dio ha dato alla luce, di ciò che il demiurgo, nella sua infinita bontà, nel suo essere uno e solo, è indivisibile, ha reso possibile come frutto della sua creazione emanativa, in questo senso, attraverso il Logos. E quindi noi possiamo vedere tutto ciò, perché siamo consapevoli, abbiamo la consapevolezza di ciò, siamo in qualche modo i testimoni dell'operato divino, che continuamente sussiste in un eterno presente, sempre esistente, sempre presente, non è qualcosa che è e poi non è più, o che ha agito e poi ha smesso di agire, ma è sempre presente l'opera del creatore e il creatore stesso che si dà nella sua opera. Però appunto viene dato all'uomo l'intelletto divino, l'intelletto da parte di Dio, insieme alla componente della ragione. in questo caso Logos è utilizzato come ragione, non come il Logos proprio del demiurgo, che crea esattamente attraverso questa modalità. Ma il demiurgo che è, lo ricordiamo, eis monos, e che invece il dativo qua è enos monu, nella declinazione proprio della prima frase, poiché il demiurgo creò l'intero cosmo con le sue mani, non con le sue mani, ma con il Logos, concepiscilo dunque come presente, sempre esistente, creatore di tutto e uno solo. Ecco, qui l'alleginazione è all'attivo, quindi, enos monu, e anche la proposizione prima è creatore di tutto, in greco risuono così, poiesantos panta, o meglio, panta poiesantos, cioè colui che ha fatto tutte le cose, e le continuo a fare, è sempre presente, questo lo ripetiamo, aei ontos, aei è sempre, ontos è esistente, quindi sempre esistente, è sempre presente, parontos, tu parontos, sempre presente, naturalmente. Questo quindi è il fulcro del testo, è già enunciato nelle prime righe, e lo abbiamo già commentato ampiamente. Dicevamo, l'intelletto che l'uomo da, che l'uomo riceve da Dio, è un elemento di dono assoluto, e che però manifesta la libertà, in questo senso, dell'uomo, la libertà che lo, in un certo senso, rende parzialmente autonomo dalla creazione. Il creatore, creando l'uomo, non necessita un percorso particolare per quest'uomo, ma l'uomo ha la libertà di agire, in un certo modo, dinanzi a necessità differenti, potremmo dire, alla necessità che poi, in altri contesti, viene chiamata quella dei demoni, cioè della predeterminazione che viene fatta al momento della nascita di qualcuno, che è una determinazione che, per così dire, gli spiriti della Terra, gli spiriti del cosmo, che sono un prodotto anch'essi del divino, fanno, imprimono nel momento della nascita di un nuovo uomo, per esempio, attraverso la collocazione, in un certo modo, della volta celeste rispetto a questo individuo che viene al mondo, che è influenza, che è quello che poi l'astrologia, come disciplina, in qualche modo scientifica, per i canoni dell'epoca assolutamente scientifica, studia, e, ecco, da un lato c'è questa predeterminazione, questo fatto che è dato dai demoni, che sono creati da Dio anch'essi, e dall'altra c'è una libertà che è quella di aderire alla divinità, quella di risvegliare in noi l'elemento più alto attraverso l'intelletto. E quindi queste sono due forme che potremmo dire di necessità. di necessità. Però la libertà si dà proprio tra il poter scegliere tra una o l'altra necessità, quella divina o quella demonica. Quella demonica che c'è ancora alla sfera sensibile, corporale, della creazione, e l'altra invece alla sfera sovrasensibile, intelligibile, del creatore. Questo è un punto centrale. Quindi gli uomini hanno questa doppia scelta. E coloro che attraverso la contemplazione intellettuale dell'universo, e quindi anche di Dio, riescono a cogliere l'idea di bene, riescono a cogliere il principio cosmico che sta a fondamento di ogni manifestazione sensibile dell'universo, possono risalire all'uno e al solo. E questo poi adesso lo vediamo in maniera lievemente più dettagliata, ma questo già è stato detto, no? Soltanto alcuni hanno praticato questa risalita al divino, e soltanto a costoro viene dato come premio l'intelletto. Quindi l'intelletto, il nus, che è la facoltà più alta, che è anche facoltà intuitiva, non viene data a tutti indiscriminatamente, ma la possibilità di ottenerla è di tutti, in questo senso. Dipende dalle nostre azioni e dalle nostre capacità, che decidiamo di intraprendere, di mettere in atto. E continuiamo a leggere. Dunque, coloro che compresero il messaggio e si immersero con l'intelletto, ebbero parte della conoscenza, che in greco è ignosi, o gnosis, e divennero uomini perfetti. Perfetti nel senso che corrispondono al loro fine, perché in greco suona così, teleioi, anzropoi, cioè perfetti nella misura in cui hanno realizzato il loro fine. Questo è il punto della perfezione, così come la viene intesa qua. Non perfetti nel senso di un modello ideale che ci poniamo e noi stabiliamo a essere ciò a cui dobbiamo mirare, ma perfetti in quanto realizzano il loro stesso fine. Bene. Quanti invece trascurano il messaggio? Sono gli uomini puramente razionali. Puramente razionali. Quindi la sola ragione non è sufficiente. I puramente razionali sono sono detti in greco i logikoi, coloro che hanno solo la ragione, i locus, ma non hanno il nus. Non hanno il nus. Bene. Puramente razionali. Che non hanno ricevuto in più anche l'intelletto e che ignorano per quale scopo siano nati e grazie a quali fattori. E le loro percezioni sono simili a quelle degli animali irrazionali e hanno un temperamento caratterizzato da irascibilità e collera. Non ammirano ciò che è degno di ammirazione, rivolgendosi piuttosto ai piaceri e agli impulsi del corpo, convinti che l'uomo sia nato per questo. Coloro che invece hanno avuto parte del dono divino, o tat, in base al confronto delle opere sono immortali, anziché mortali, in quanto hanno abbracciato tutta la realtà con il loro intelletto, quelle sulla terra, quelle del cielo e quelle, se ce n'è, al di sopra del cielo. Essendosi elevati così tanto, videro il bene e, dopo averlo visto, presero a considerare la permanenza quaggiù come una disgrazia. Disprezzate così tutte le realtà corporee e incorporee, rivolgono tutto il loro zelo verso l'uno e solo. Questa, o tat, è la scienza dell'intelletto, possesso delle cose divine in abbondanza e contemplazione di Dio, poiché il cratere è divino. Quindi coloro che si sono in qualche modo immersi nel cratere, appunto, questo è il verbo, l'immersione è come un battesimo, infatti, immergiti, quel monito che viene fatto agli uomini, che è immergiti in questo cratere, è suona in greco come baptiston, quindi immergiti, baptiston seauten. Questo è evidente un elemento che poi possiamo cogliere anche nel battesimo, l'immersione come nuova nascita, nuova nascita ad un mondo altro, cioè ad un mondo che non non è al di là necessariamente, ma è al di là di ciò che le facoltà ordinarie ci consentono di cogliere. Quindi non è un mondo distinto da ciò che noi cogliamo, ma è un mondo incorporeo che ingloba anche quello corporeo che noi per lo più cogliamo attraverso i sensi. E quindi, in questo senso, è superiore, è altro, ma è sempre qui, è sempre qui, perché vi è solo una sola realtà. Quindi la realtà è una sola. Lo ripeto ancora una volta, con le ultime frasi che abbiamo letto. Questa otat è la scienza dell'intelletto. Questa otat è la scienza dell'intelletto. Che in greco è così, suona proprio questo e tu nu est in episteme, cioè episteme, la conoscenza, è, est in, tu nu, dell'intelletto, no? La conoscenza dell'intelletto, la scienza dell'intelletto, possesso delle cose divine in abbondanza, dice. Quindi, naturalmente, in greco suona così, ton zeion entopia, e contemplazione di Dio, contemplazione di Dio, che in greco suona e tu zeu katanoesis. Katanoesis è proprio l'atto del contemplare chi? Dio. Tu zeu. E quindi ci chiarisce poi che il cratere è divino. Il cratere è divino, quindi chi guarda nel cratere, chi si immerge nel cratere, si immerge nel Dio. E gli viene data la possibilità di contemplare la totalità delle cose che sono divine. E diventa così immortale, perché si viene a collocarsi in una prospettiva che gli dà uno sguardo sovratemporale, sovrastorico, del aion, della eternità. Quindi della immortalità in quanto eternità. Lo sguardo così rinato, a partire da questa iniziazione della immersione battesimale nel cratere, che è appunto il divino, ci consente di accedere a facoltà superiori, come quella del Nus, che solo da alcuni sono consentite, e di abbracciare tutta la realtà, sia quella sensibile che quella, se ve ne è una, viene detto anche perché appunto quella sovrasensibile, perché in realtà è tutto uno. E queste distinzioni sono distinzioni che fa il logos, che fa la ragione. Ma quando si coglie la totalità non vi è più distinzione tra ciò che è sopra e ciò che è sotto il cielo, in qualche modo. Perché tutto è espressione della stessa identica sostanza, che è una sola, che è quella di Dio. Spinoza dirà Deus sive natura, ma non nel senso di un riduzionismo del Dio alla natura, così come nemmeno di una elevazione della natura al divino, ma come coincidenzia oppositorum, cioè di apparenti opposti. E così continua, adesso leggiamo, sempre il dialogo. Anch'io voglio immergermi in esso, o padre. Se, in primo luogo, tu non odierai il tuo corpo, o figlio mio, non potrai amare te stesso. Se invece amerai te stesso, possiederai l'intelletto. E possedendo l'intelletto parteciperai anche della scienza. In che senso dici questo, o padre? Nel senso che è impossibile tenere al contempo sia la realtà mortale che a quella divina, poiché infatti i tipi di esseri sono due, i corporei e gli incorporei, tra i quali si ripartiscono ciò che è mortale e ciò che è divino. A chi vuole scegliere non rimane che la scelta tra gli uni e gli altri. Non è possibile infatti scegliere entrambi. E laddove non resta che la scelta, la sconfitta delle due alternative, manifesta la messa in atto dell'altra. Dunque la scelta dell'alternativa migliore non solo risulta la più bella per chi la scelta, in quanto divinizza l'uomo, ma mostra anche la devozione verso Dio. E quindi la devozione verso Dio e la divinizzazione dell'uomo, vediamo qua, sono fondamentali. La divinizzazione è questo apoteosai, apoteosi potremmo dire. Apoteosi letteralmente significa questo da salire al divino. L'apoteosi è una salita al divino. E naturalmente divinizza l'uomo questa alternativa bella, che è quella della strada che disprezzando il corpo raggiunge l'amore per se stessi, la vera conoscenza amorevole di sé, quindi, non la falsa, il falso amore, l'amore del corpo che non è ciò che noi siamo. L'amore per se stessi si manifesta nell'amore della nostra parte eterna, della nostra essenza più intima. Quindi attraverso questa conoscenza di noi stessi, che è una conoscenza di amore, partecipiamo dell'intelletto. E questa via si pone in antitesi con l'altra, che è la scelta del corporeo, del sensibile. E o si sceglie una o si sceglie l'altra, cioè non vi sono altre possibilità, lo dicevamo prima, vi è una necessità di scegliere o l'una o l'altra. E attraverso la scelta di questa via seconda, noi possiamo proprio praticare un percorso ascetico, come condizione della risalita. E dare, in questo modo, a Dio, attraverso la nostra apoteosi, la nostra divinizazione, dare anche la giusta Eusebeian, che non è altro che la devozione allo stesso Dio. E poi precisa, invece, la scelta dell'alternativa peggiore conduce l'uomo alla perdizione, anche se non offende Dio, se non per questo aspetto. Come le processioni avanzano senza essere in grado di produrre nulla da sé, ma anzi costituendo un ostacolo per gli altri che non vi partecipano, allo stesso modo costoro avanzano nel mondo come in processione, lasciandosi condurre dai piaceri corporei. Quindi, chi sceglie l'altra strada non disprezza Dio, non fa nessun torto a Dio che non si offende, ma è l'alternativa peggiore, perché si lascia condurre da ciò che è sensibile, che lo allontana da Dio. Quindi è qualcosa che, dal punto di vista di Dio, è in qualche modo indifferente, ma dal punto di vista della singolarità di ciascuno, seguire i piaceri corporei è qualcosa che non ci connette alla nostra origine. E quindi è in questo senso il male. Il male è in quanto si allontana da Dio che è il bene, potremmo dire. Dio, in quanto coincide col bene, è l'uno e unico bene esistente, non vuole il nostro male, ma essendo noi liberi di scegliere, di aderire o meno a Lui, possiamo allontanarci da questa bontà assoluta che è Dio. E quindi andiamo nella via della perdizione, perdiamo la nostra origine, il nostro centro, la nostra parte sovrasensibile, che è il nostro intelletto, che ci consente di cogliere intuitivamente il divino. Dal punto di vista di Dio non vi è differenza, dal punto di vista dell'uomo vi è differenza. Vi è differenza in quanto allontanamento dal bene, che implica il male. Che implica il male. Come scelta umana. E continuiamo così, la lettura. Questa è la situazione, otatta. Comunque noi abbiamo sempre avuto e avremo a disposizione i beni che provengono da Dio e le risorse che vengono da noi dovranno seguirli e non rimanere indietro. Poiché Dio non è responsabile, ma siamo noi i responsabili dei nostri mali, se li preferiamo ai beni. Vedi, figlio mio, quanti corpi dobbiamo attraversare, quante schiere di demoni che lunga successione e quanti corsi di astri per poter finalmente pervenire all'uno e solo. Poiché il bene è invalicabile, illimitato e senza fine, e di per sé anche senza un inizio, benché a noi sembri avere un inizio dal momento in cui cominciamo a conoscerlo. Quindi la conoscenza non costituisce il suo inizio, ma fornisce a noi il principio di quello che stiamo incominciando a conoscere. Afferriamoci dunque a questo inizio e percorriamo rapidamente tutto il cammino. È davvero tortuosa la strada che consiste nell'abbandonare le realtà consuete e presenti per piegare verso quelle antiche e primarie. Infatti la realtà che si manifestano nei nostri sensi ci dilettano, mentre quelle che non si manifestano ci fanno sospettare. Ebbene le cose che si manifestano in maggiore misura ai nostri sensi sono quelle cattive, mentre il bene è invisibile agli occhi visibili. Infatti di esso non si dà forma né figura. Per questo esso è simile a se stesso ed è simile da tutte le altre realtà. È impossibile che una realtà incorporea divenga evidente a un corpo. Questa è la differenza del simile rispetto al dissimile e l'inferiorità del dissimile rispetto al simile. Bene, con questo cogliamo effettivamente l'elemento di difficoltà della risalita verso il bene, che essendo un elemento che è indivisibile, che è simile, che uno non attira così come attirano i piaceri mondani, che invece sono molteplici e sono dilettevoli. Quindi il percorso di Ascesi implica una fatica, uno sforzo. Continuando nella lettura procediamo. In effetti la monade, essendo il principio e la radice di tutte le cose, interessante qui, l'archè, cai, rizza, principio, principio logico, ontologico, cronologico, che in realtà è fuori dal tempo, in quanto è l'archè dello stesso tempo, cioè il principio del tempo stesso, quindi al di là del tempo, e rizza, cioè la radice, la radice come quella dell'albero appunto, cioè il fondamento potremmo dire. Ecco, la monade, essendo principio e radice di tutte le cose, si trova in tutte le cose, come appunto una radice e un principio. Ora, nulla esiste senza un principio, ma il principio a sua volta non viene da null'altro che da se stesso, se è principio di tutte le altre realtà. La monade, dunque, essendo principio, comprende ogni numero, senza essere compresa da nessuno di essi, e genera ogni numero, senza essere generata da alcuno di altro numero. Tutto ciò che è generato, invece, è imperfetto e divisibile, è passibile di accrescimento e di diminuzione, mentre nulla di tutto ciò accade a quello che è perfetto, e quello che è passibile di accrescimento deriva questo suo accrescimento dalla monade, ma cade vittima della propria debolezza, in quanto non è più capace di contenere la monade. Quindi tutto ciò che è secondario, potremmo dire, che non è originario, che non è il principio, che quindi dipende dal principio stesso, ci viene detto, e quindi tutto ciò che non è monade, appunto l'uno è monas, il solo, e tutto ciò che non è monade, ma che al contrario è generato, risulta essere imperfetto, divisibile, quindi corruttibile, nel senso che può accrescersi o diminuirsi, e proprio in virtù di queste sue qualità, cade vittima della sua debolezza, in quanto non è in grado di contenere ciò che invece è indivisibile, come può il finito contenere l'infinito, in questo senso, il divisibile contenere l'indivisibile, il corruttibile contenere l'incorruttibile, e continua. Questo dunque, otat, è l'immagine di Dio, che per te è stata tracciata, per quanto possibile, se la contemplerai con attenzione e la osserverai con gli occhi del cuore, anche qui, gli occhi del cuore, qui è tes cardias of salmois, of salmos è l'occhio, e cardias è il genitivo proprio del cuore, tant'è che appunto molte parole greche e contemporanea italiana dipendono proprio da questa radice etimologica, che è il battito cardiaco, appunto, per esempio, per dire. Il cuore è oftalmico, oftalmologico, per dire qualcosa che riguarda l'occhio. Quindi, gli occhi del cuore sono ciò che ci consente di contemplare, quindi noseis, potremmo dire, potremmo vedere questa contemplazione come un atto del nus, attraverso questa contemplazione, che è l'atto del nus, che avviene attraverso gli occhi del cuore, cioè gli occhi più intimi, gli occhi del nostro centro, continuo così, troverai la via che conduce alla realtà superiore, quindi attraverso gli occhi del cuore si potrà contemplare questa via che ci porta alle verità originarie, alle vie superiori. O meglio, continua e conclude qui il discorso. Sarà l'immagine stessa a condurti su questa via. La contemplazione, infatti, ha solo la seguente proprietà. Essa prende possesso di coloro che si sono affrettati a contemplare e attrae a sé, come dicono che la calamità attiri il ferro. Quindi veniamo attratti proprio dalla stessa contemplazione, attratti a questa realtà superiore, attraverso l'attività della contemplazione. Quindi, in qualche modo, c'è l'attività della contemplazione stessa che ci consente l'avvicinamento. Noi, contemplando, siamo in qualche modo in una sfera passiva, ma avviene come un aiuto dall'alto, come una grazia divina che ci attira a sé e facendoci cogliere la verità stessa. Quindi questo è il momento interessante. Noi, è un aspetto che è l'essere attirati a sé da una potenza superiore. E con questo concludiamo il discorso di questo quarto trattato del Corpus Hermeticum.